È indubitabile che col virus che ha colpito di meno il Sud c'è stato un orgoglio anche per come si è comportato il popolo del Mezzogiorno, disciplinato, più o meno organizzato e sicuramente rispettoso, specialmente nelle zone più ad alto rischio, meno lige alle regole come Napoli e anche Palermo. Ed è vero che però il virus ha colpito dove il lavoro c'era, dove le fabbriche erano aperte, vogliamo dircelo, perché purtroppo il Sud ha goduto della sua povertà, della rarefazione di insediamenti industriali. E il fatto che tutti fossero a casa è perché la mediamente sono dipendenti pubblici, agricoltori, artigiani, certamente l'area del Bresciano, l'area della Lombarda, quella piemontese, quella veneta e quella emiliana hanno subito nella lotta e nella contraddizione tra lavoro e salute il più alto costo. E' indubitabile una seconda cosa, che la prova della regione Lombardia è stata una prova politicamente non sufficiente, la pagherà secondo me alle prossime elezioni, sconterà e questa è la responsabilità più grave perché è stata sempre una regione simbolo della Lega. Tre, ricordiamo che il Sud spende per il turismo sanitario, il cosiddetto turismo sanitario, un miliardo e 500 milioni l'anno e questa è la prova più alta del disinteresse del Sud verso il Sud e anche del governo verso il Sud. Quattro, noi possiamo dire tutto di Bergamo, possiamo dire tutto di Lodi, di Codogno, qualunque polemica, è gestita malissimo, ma non ho mai visto, io che sono meridionale, un cittadino di Pavia chiedere di essere operato a Caserta piuttosto che a Brindisi o a Catanzaro. Ho sempre visto e accompagnato purtroppo cittadini di Caserta, di Brindisi e di Catanzaro a Pavia o a Milano o a Padova. Questo è il più grave sfregio, il più grave sacco del quale il Sud è piuttosto colpevole però, perché ha una rappresentanza politica che fino a ieri, forse anche oggi, ha fatto da cornici, no? Il Parlamento come puro ornamento, senza rappresentare né interessi forti né interessi diffusi, ma soltanto un poco di clientela. Ce lo diciamo adesso perché io senti, e non è riferibile al virus, una dichiarazione di un anno fa, credo, del Presidente Fontana, che tra le altre cose, quando si parlava dell'autonomia, io sono uno dei firmatari della petizione contro questa dissennata forma di ampliamento dell'autonomia regionale, diceva che ci servono per esempio più medici, più ospedali, perché dobbiamo far fronte a richieste crescenti dal Sud verso Milano, verso la Lombardia. È mai possibile che un Presidente della Regione possa dire questo, è mai possibile che pure tra un po' per fare un gesso noi dobbiamo andare a Milano, a Torino, a Vercelli o a Padova. Ma questo è il dato più incredibile sul quale tutti, specialmente i governatori del Sud, che sono i più orgogliosi, e come si dice sulla Cressa dell'Onda, dovrebbero chiedersi perché i loro ospedali fanno così, se mi permettete, un po' vergogna. Chiarissimo, allora fatemi andare da Alessandra Grisleri, ne sento il bisogno.